Noi siamo in collegamento telefonico proprio con il senatore Giovanardi, buonasera. Sì, buonasera. Ecco, queste sono questioni su cui cade il governo. Lei dice che non siamo stati informati, come pensate di procedere? Dunque, noi sappiamo che in Commissione della Giustizia e qui al Senato c'è un disegno di legge del Parlamento Democratico che prevede appunto la parificazione sostanziale delle unioni civili al matrimonio. Noi siamo contrari, abbiamo detto più volte, perché è legittimo che una forza politica se vince le elezioni, come ha fatto Hollande in Francia, porti avanti le sue riforme. Ma il PD non ha vinto le elezioni. Questo governo e questa maggioranza sono lì per fare le riforme elettorali del Senato e del titolo V. E quindi non siamo certamente lì per fare da copertura, operazioni, meno che mai se queste operazioni di rivoluzione antropologica provengono da un governo che si regge con i nostri voti. Certo. Quali sono in particolare, Senatore, i punti di questo testo di legge che si sta elaborando che per voi sono inaccettabili? Beh, intanto la totale parificazione dell'unione uomo-uomo, donna-donna al matrimonio, compresa la reversibilità, che è una cosa che non sta niente in terra, perché non si capisce sinceramente perché un istituto che è nato quando la donna non lavorava, l'uomo lavorava ed era un ristoro per la donna che rimaneva sola e che giustamente aveva diritto a incassare quello che il marito aveva accumulato in una vita di lavoro, non si capisce perché due uomini o due donne che vivono assieme, quando uno muore l'altro deve avere la reversibilità, naturalmente con spese per l'economia che sarebbero folli a tutto detrimento, diciamo per la famiglia della Costituzione. Non potrebbe prodursi il caso che anche in una coppia composta di persone dello stesso sesso e che vive insieme per molti anni, uno lavori, l'altro no e poi l'altro, quindi si trovi nella condizione di poter avere questo diritto? La figura del casalingo, cioè dell'uomo casalingo, faccio fatica a vederla nella realtà e naturalmente questa reversibilità verrebbe applicata a tutti, in maniera indiscriminata, salvo per esempio a chi vive con un'altra persona, mette il memore sdomini, mette il paro con la perpetua, pensa alle due vedove, pensa ai due fratelli, ci sono possano essere mille motivi per cui due persone vivono in una situazione di solidarietà, però che cosa discrimine? Il fatto che abbiano rapporti sessuali fra di loro? C'è che vada una letta assieme? Allora è molto più avanzata la nostra proposta di legge, i patti di convivente e di solidarietà, perché quelli davvero a chiunque viva in una situazione di solidarietà, toglie ogni tipo di discriminazione senza andare a verificare se sono uomini, se sono donne e se vivono o no muore Oxorio. Ci sarebbero però diritti diversi da quelli oggi previsti per il matrimonio? Nel caso dell'unione civile di solidarietà, sì perché è chiaro che sparanca la porta all'adozione dei bambini, all'utero in affitto. Ma in realtà Renzi dice che questo è escluso, quindi non c'è la possibilità di adottare bambini. Diventa un automatismo, tanto perché hanno già scritto nella legge che ci sono le possibilità di deroga quando il bambino è figlio di uno della coppia. Sì, ma nel momento in cui il legislatore dovesse parificare totalmente, perché nel testo di legge c'è scritto che ovunque nel codice civile si parla di matrimonio si intende unione civile, ovunque c'è scritto moglie e marito si intende unione civile, uno dei due dell'unione. Quindi nel momento in cui il legislatore parifica totalmente l'unione civile al matrimonio, è evidente che la Corte Costituzionale a quel punto dirà... Si trova quasi nell'obbligo. Dice che essendo esattamente uguale al matrimonio non si vede come si faccia precludere a due persone che vivono in una maniera che il legislatore stesso identifica e parifica il matrimonio, è chiaro che apre la porta anche alle adozioni e anche... Ma il resto il mio collega, lo giudice, è appena tornato un mese fa in Italia con un bambino fatto con la tecnica, io lo chiamo l'utero in affitto, lui dice che ha trovato un'amica che negli Stati Uniti si è prestata gentilmente a fare nove mesi di gestazione per poi dargli il bambino. Sono forme di sfruttamento della donna che noi non ammettiamo e lì però sono le prospettive dove onestamente basta vedere oggi cosa dicono le associazioni gay italiane vogliono arrivare lì, vogliono arrivare al matrimonio, all'adozione dei bambini, all'utero in affitto, alla possibilità di uomo a uomo, donna a donna, di assemblare dei bambini attraverso l'acquisto dei fattori della produzione. Certo, ma non sarebbe allora sufficiente, senatore, semplicemente rivedere la parte che riguarda le adozioni, rivedere la parte che riguarda la reversibilità e poi salvare la norma? Ma la norma, scusi, è molto più avanzata che vale sia per uomo e donna, perché l'unione civile vale solo per uomo a uomo, donna a donna. Certo, anche questo è un altro controsenso, gli eterosessuali che decidono di convivere e non sposarsi sono esclusi da qualunque diritto. Per dieci anni, in tutte le trasmissioni televisive che sono andato, ho sempre sentito ripetere fino a tre anni fa che il problema era proprio quello degli uomini e delle donne, che non volendo non potendo sposarsi, allora avevano il problema dell'affitto, avevano il problema della casa in proprietà, avevano il problema di andare a trovare il convivente o la convivente, benissimo, tutte cose che con i contratti stipulati dai notari o sensibili dai terzi vengono risolti, togliamo ogni forma di discriminazione, compresa nelle successioni, perché magari allarghiamo anche la parte disponibile, ma una volta che abbiamo tolto ogni tipo di discriminazione, a me l'idea che un bambino abbia un papà che si chiama Ugo, una mamma che si chiama Ugo o viceversa, non mi sta bene perché penso che un bambino abbia il suo diritto di avere una figura paterna e una figura materna e di crescere in una famiglia dove ci sia un padre e ci sia una madre. A volte si dice, senatore, c'è maggiore serenità in famiglie composte di persone dello stesso sesso che non in famiglie con i genitori tradizionali, anche i fatti di cronaca ultima... E chi lo dice? Beh è un dato di fatto a volte, questo è vero. Non è un dato di fatto, è una... Non è un dato generale sicuramente, però può capitare. Non è un dato esperienziale perché le assicuro io che quando un bambino si trova a casa due uomini o due donne e non ha il diritto che abbiamo avuto tutti di avere una mamma e di avere un papà che hanno caratteristiche diverse, che hanno un'influenza diversa sulla crescita del bambino, perché un papà ha caratteristiche che una madre, madre di dolcezza, di tenerezza, di condivisione che ha con... Lei mai ha visto un soldato morire in guerra invocando il padre e non la madre? Compregiù gli omosessuali, perché attenzione, la nostra battaglia è la battaglia anche degli omosessuali che rivendicano il loro diritto ad avere un compagno, di vivere la loro vita, ma sono assolutamente contrari, come lo siamo noi, al matrimonio, all'adozione e al fatto di voler avere dei bambini. Perché a volte si dice che questi provvedimenti per esempio vanno incontro al sentire di tutta la comunità omosessuale. Lei dice di no, che non è così. Scusi, quando abbiamo fatto l'amministrazione a Roma delle Manif Portus, l'intervento più applaudito dalle 2000 persone in piazza è stato l'omosessuale francese, che era lì con il suo compagno, che è venuto a portare solidarietà sia in Francia che in Italia, a chi lotta contro il matrimonio. Sono omosessuale, vivo con questo mio compagno, ho i miei orientamenti, non voglio essere discriminato, ma da questo a parlare di matrimonio non ci sto. E meno che mai ha l'utero in affitto, e meno che mai l'adozione dei bambini. Sicuramente poi ci sono posizioni estremamente variegate, è un tema molto molto delicato, tra l'altro anche il Premier ha detto, è un testo delicato, niente strappi, lasciamo che la Commissione ne discuta. Del resto, Senatore, c'è anche tempo, perché il testo non dovrebbe essere valutato poi nel merito, non prima dell'autunno, quindi come dire, c'è modo anche di riflettere sui contenuti. Non è che c'è tempo, allora, ripeto, è un dato morale, è un dato politico. Chi vince le elezioni ha diritto di portare avanti il programma con cui ha vinto le elezioni. Chi oggi governa, grazie a una maggioranza, che è lì per fare le riforme, non può fare una rivoluzione antropologica come questa, che dopo millenni ridisegna i rapporti sociali, civili, umani, eccetera, pensando di farlo e sostenendo un quadro politico con i nostri voti, che siamo contrari. Certo. Se il Governo dovesse andare avanti su questa direzione, come si comporterebbe il nuovo centro-destra? La mia opinione, io ho un Governo così, toglierei immediatamente la fiducia. Staremo a vedere cosa accadrà. Intanto, grazie alla Senatore Carlo Giovanardi del nuovo centro-destra per questa riflessione con noi. Buon lavoro. Grazie, arrivederci. Arrivederci.